Bando ultralarga Rieti cominciano i lavori di Open Fiber per la posa della fibra ottica. Il piano è stato illustrato questa mattina dal sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, alla presenza dell'assessore all'innovazione tecnologica Elisa Masotti e dai rappresentanti di Open Fiber Roberto Tognacini, responsabile Network e Operation Area Centro, e Paola Martinez, responsabile affari istituzionali territoriali. Saranno collegate in fibra ottica 16.000 unità immobiliari attraverso la creazione di una nuova infrastruttura di 110 km. L'investimento, pari a 6,5 milioni di euro, sarà sostenuto completamente da Open Fiber e rientra nella grande opera di modernizzazione del paese messa in campo dalla società, che vede coinvolte 271 città in tutta la penisola con investimento diretto e oltre 7.000 comuni di piccole e medie dimensioni come concessionario Infratel. La svolta epocale per i Rieti arriva con la trasformazione digitale, rispetto alla quale in Italia Open Fiber svolge un ruolo da protagonista, ha dichiarato Elisa Masotti, assessora all'innovazione tecnologica, e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. L'apertura dei cantieri segna l'avvio dei lavori che termineranno entro il 30 giugno 2020. Attraverso questa operazione, a costo zero per le tasche dei Rietini, l'amministrazione comunale apre la vera autostrada del futuro.